ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su my little blacksmith shop e ringrazio anche lo sviluppatore per la fiducia perché da quanto so non è uno sviluppatore che concede spesso la possibilità di fare dei video e quindi lo ringrazio di questo gioco poi ho trovato anche online altri italiani che ci hanno portato delle serie io ve lo voglio far vedere perché è sicuramente simpatico allora prima cosa che possiamo fare qua vedere che extra content non abbiamo ancora sbloccato niente però si può validare con un codice non so come qua c'è la personalizzazione sia uomo che donna è uno stile grafico molto molto particolare infatti possiamo scegliere i vari capelli si dividono tra uomo e donna ma tanto noi non ci vedremo mai quindi mi metto questa maschera da saldatore mi metto questa piccola barba così e boh non so metto il toni va bene iniziamo una partita si può giocare in tre modalità diverse il tutorial che ci spiega come forgiare la storia ma la storia non è implementata o la sandbox ma non ha i clienti quindi iniziamo con la storia normale lo giochiamo a normal e iniziamo a vedere come funziona il gioco sicuramente non costa molto su steam perché lo pagate circa 8 euro e 19 centesimi quindi veramente poco avete la possibilità di prendere in mano le varie cose e vedere di che cosa si tratta in questo caso sono delle istruzioni quindi piazzare gli ingotti sulla forgia accendere la forgia aspettare che diventi incandescente rimuovere il lingotto piazzarlo sulla l'incudine premere z scegliere il progetto e poi martellare fino a quando esce il progetto che ci interessa dobbiamo poi mettere sul crafting table il nostro pezzo diciamo di craftato di armatura di armatura o di di arma e mixarlo insieme ad altre parti che possono essere magari ad esempio il manico allora onestamente questo non so cosa serva perché è un progetto possiamo fissarlo lì e lo mettiamo qua abbiamo la retro bottega con tutto quello che si può usare abbiamo anche dei lingotti con cui cominciare e in qua dietro abbiamo la possibilità di tutto va beh cambiare l'icona insomma qua possiamo spostare la roba ok e cambiargli il nome quindi boh poi quando scopriremo cosa serve questo va bene allora un'altra cosa abbiamo qua la possibilità di ordinare in questo caso io posso ordinare dei manici quindi vado ordinare un paio a una mano un paio a due mani abbiamo 100 monete quindi place order e ci arriva quindi gli diamo una martellatina e troviamo già le parti quindi in questo caso tenendo premuto il destro possiamo andare a spostarle e appoggiarle qua che poi ci serviranno per craftare le nostre prime cose ovviamente siamo a differenza di altri giochi dove magari compravamo e poi rivendevamo alla lingua rosso insomma siamo dei crafter quindi quando un avventuriero arriva per comprare qualcosa si metterà lì al bancone ci dice che cosa vuole e glielo dovremmo fare possibilmente al momento il gioco ancora in ampio sviluppo quindi dicevo ha dei bug ha uno stile grafico veramente unico queste sono le nostre monete abbiamo 52 qua abbiamo la camera che ci permette poi di andare a dormire adesso vuoi dire che incontrare no ok si apre abbiamo un libro e qua possiamo andare a dormire qui possiamo andare a piantare dei fiori per farci crescere delle piantine ma non ho idea di come si faccia quindi possiamo provare ad andare a vedere se riusciamo a piantarli da fuori magari che abbiamo il va no aspetta un secondo quella è un'altra cosa ancora ma qua ci va il carbone per alimentare vedete che qua si può alimentare questo forno eh sì perché in pratica questa è una sorta di forgia vedete che c'è lo stampino del del lingotto perché possiamo andare anche a scavare manualmente noi eh il il metallo anziché comprarlo allora vediamo se abbiamo un modo can be planted no non posso piantarlo eh vabbè insomma va bene vabbè è un gioco che devo esplorare ancora molto bene devo ammettere infatti adesso usciamo vi faccio vedere un paio di chicche veramente simpatiche poi apriamo ovviamente anche il negozio ti vedete che qua c'è tutto il villaggio la chiesa ma non è tutto qui perché poi va avanti c'è il villaggio e potete acquistare anche da altri vendor e soprattutto potete anche rubare il furto ovviamente va a finire un po male e voglio farvi vedere vedere anche quello posso piantarlo qui no non me lo fai piantare vabbè sto perdendo tempo eh dico la verità can be planted sì vabbè vabbè eh niente non si piantano fiori qua qua c'è un'altra cosa per segare gli alberi il tronchi insomma ok e poi possiamo attivarla questa sì ma non parte vediamo un attimo abbiamo anche degli altri utensili allora adesso vediamo se riesco ad attivarla ma penso che non sia funzionante ancora niente allora vi faccio vedere la forgiatura come comincia allora prendiamo un ingotto di quelli che abbiamo qui lo piazziamo sulla forgia si fa tutto a mani liberi insomma accendiamo la forgia vedete che tenendo premuto si va a potenziarlo eh poi potrebbe essere scambiato per un bug ma in realtà dovete aspettare che diventi proprio incandescente appoggiandolo poi sulla sulla l'incudine eh una volta appoggiato sull'incudine eh si preme z e ci fa craftare le lame ma in realtà in realtà fa un po' quel cacchio che vuole perché deve essere proprio veramente caldo e noi non dobbiamo perdere tempo e dobbiamo proprio metterlo sulla forgia veramente veramente quando è caldissimo quindi lo appoggiamo qua in questo caso vedete che ce l'ha già messo giusto prima no non era abbastanza caldo e qua possiamo scegliere un tipo di lama short pointed blade ok scelgo questo e poi inizio a martellare una volta che ho martellato abbastanza vedete mi da un tipo di lama un altro tipo di lama un altro tipo ancora e ok questo direi che mi va bene ah vabbè la facciamo cura va va bene la butto nell'acqua la faccio raffreddare adesso poi dobbiamo andare a puntarla vedete adesso la lama è pronta e può essere col tasto F abbinata a un a un manico però non lo facciamo allora in questo caso proviamo ad aprire il negozio allora shop close open ok perfetto negozio aperto aspettiamo che arrivi qualche cliente ok un'altra cosa interessante qua fuori vabbè abbiamo il nostro negozio possiamo rinominare aumentare il carattere qua fuori c'è questa avventuriera qui che ci permette di andare cioè possiamo mandarla altrove nei dungeon a recuperare oggetti per noi il problema è che non ci vanno non ci va perché non ha l'equipaggiamento quindi noi possiamo letteralmente togliergli l'equipaggiamento e craftargliene di migliore alzandola di livello e quindi una volta che raggiungerà la qualità dell'armatura di 40 potrà andare in questo dungeon e a qualità 100 potrà andare in quell'altro salve salve allora abbiamo già un cliente vestito in modo discutibile nello stile grafico è praticamente unico cosa vuole? puoi fare una copper one hand axe non lo so ci provo vediamo vediamo se riusciamo a fargliela poi ci sono i secondi vicino al cliente quindi dobbiamo servirlo entro 340 secondi ho visto 345 la facciamo scaldare bene lo posizioniamo nuovamente sull'incudine vedete che io non capisco perché non me lo piazza sempre bene devo farlo probabilmente scaldare sempre di più che non è abbastanza caldo e poi una volta appoggiato qua vedete che il tondino dovrebbe ok adesso in questo caso l'ho fatto axe axe non me la fa quindi non ho ancora una ricetta per farlo posso fare scudi posso fare neanche la ramatura posso fare lo scudo quindi dato che le lame e le asce non le posso fare direi che non posso servirla signora quindi io sono costretto a rifiutarle la richiesta mi dispiace x mi dispiace qua possiamo vedere il calendario con tutti gli avvenimenti che succedono e poi si può andare in giro per il villaggio adesso quella se ne va un po' offesa abbiamo altri oggetti no abbiamo altri oggetti si che possiamo comprare da altri negozianti questo mercenario hai bisogno di comprare qualcosa parla al boss e il boss è qua possiamo comprare queste cose per usare questa ci serve una reputazione di livello 2 possiamo equipaggiare anche degli zaini da poter usare si potranno usare anche i carretti a quanto pare abbiamo uno skill book left click to read ma non me lo fa leggere perché devo comprarlo e qua abbiamo delle teste diciamo di utensili anche i manici un po' belli da comprare la particolarità vi faccio vedere adesso a breve andiamo prima a vedere cosa vuole quel cliente lì quindi se rubiamo dal negozio veniamo portati direttamente in prigione dove saremo costretti a dormire almeno un'ora per poter essere liberati salve mi dica bless me I need a copper great hammer si great hammer ma l'hammer io credo di non poterlo fare perché non ho la ricetta credo però non so vediamo adesso riscaldo un po' il copper hammer vediamo se me lo me lo prende si hammer io dubito perché nei blunts eh no blade qua è tutto spear spear blade no 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 non ho proprio modo di a meno che access blunts no questo è sono i tasti per spostarsi lateralmente ma no purtroppo non so fare i martelli ho aperto ma non so fare niente quindi mi dispiace eh ho anche questo ma non ho la minima idea di che cosa mi serva questo quindi eh niente allora lei che ghiera ha qualità 12 eh ma non so fare nulla non so fare nulla intanto ho calato la nebbia allora adesso vi faccio vedere come funziona qua il questo poi è un video ovviamente di presentazione per presentarvi il gioco poi se vi piace lo riporteremo io adesso prendo questa e arrived d'Archie ok siamo direttamente in prigione dobbiamo dormire per poter essere liberati quindi premiamo il tasto sinistro dormiamo un'oretta e eh al risveglio possiamo uscire ok guardate anche la cura nei dettagli perché per me graficamente a parte i personaggi che sono fatti così in stile un po' fluttuante piace moltissimo qua siamo all'interno di un castello qua possiamo uscire eh è un gioco con un potenziale veramente alto dal mio punto di vista perché guardate adesso che è nevicato non era così prima qua c'è l'inquisitore hai visto qualcosa di di strano lontano vabbè salve signore eh sì là c'è altro niente qua si esce eh usa una lanterna se diventa troppo scuro la notte vabbè qua siamo in un villaggio che non è il villaggio dove ci troviamo dove ci trovavamo noi perché eravamo fuori dal villaggio e nel villaggio possiamo andare a dare un'occhiata a quello che c'è qui in vendita ma non vendono niente c'è un carretto dismesso no non c'è nessuno qua vabbè torniamo al villaggio di là e vediamo che cosa riusciamo a fare salve signore sì va bene questo chi è? un avventuriero? arriva dalla muraglia stay warm vabbè allora qui un'altra cosa interessante perché possiamo andare ad attivare nei vari luoghi in cui andiamo questi portali che ci portano eh direttamente nelle varie location nel momento in cui andiamo a sbloccarle no ma cavole ha nevicato non nevicava prima beh bella bella sorpresa vabbè adesso ce ne andiamo torniamo al villaggio come dicevo si può andare a scavare col piccone quindi bisognerà procurarsi un piccone andare a scavare il metallo per noi stessi quindi non andare ad acquistarlo ordinarlo ma andare proprio a guardate che bello il ghiaccio qua andare a forgiarcelo noi stessi lì c'è la torre dovremmo vedere la chiesa breve che la chiesa è dove siamo partiti perché avevamo la ecco questo è un altro è diventata notte è uno di quei giochi dove diventa notte subito si 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 dovremmo esserci quasi ecco lì la chiesa si vede è diventata notte più che altro quindi dovevo andare a dormire chiudiamo il negozio andiamo a vedere abbiamo fatto un'ora di prigione per una cosa che ci ha fatto comunque perdere un po' di reputazione ok di che la cosa particolare diciamo del gioco è inspiegabile è che parte con non WSD WAHD quindi ho dovuto cambiare un tasto perché per andare indietro dovevo premere l'H era una cosa che mi ha mi ha spiazzato abbastanza no qua invece non nevica non nevica però c'è un cliente che di notte viene tardissimo insomma e vuole qualcosa in 226 secondi allora scusi non volevo passarle davanti mi dica vorrebbe copper to hand axe no non la so fare mi spiace arrivederci scusi adesso shop closed chiudi la porta vado a dormire e speriamo nel giorno successivo sono le 21 dormiamo fino alle 7 di mattina le 7 mi sembra l'ora di giusto credo e passano un po' modello Skyrim Oblivion col caillon sotto lo volevo tanto questo gioco perché mi ispirava e tra tutti quelli di Simulatori di Forgia mi sembra uno dei più carini questo è Epic Games di Chopra, My Patron, Patreon insomma tutto il tributo agli sviluppatori e ai sostenitori del gioco questo invece sono una tavola dei contenuti quindi ci spiega come l'elenco dei tasti e come craftare le varie cose Shield Components si fa l'anello intorno e l'interno per la spada ci serve la lama la guardia il grip per il martello la blunt head più il grip non so neanche come fare più che altro non so neanche come fare la guardia la guardia la possiamo ordinare da qua forse grips guards infatti ordino una guardia normale a una mano e una a due mani così almeno piazziamo l'ordine che arriva almeno adesso scusate ma voglio romperlo dentro qui così almeno me lo devo portare fuori ok due guardie e poi adesso magari craftiamo una spada giusto così per per averla lì se arriva un cliente la vuole gliela assembliamo vi faccio vedere anche come funziona l'assemblaggio poi magari mi fate sapere se volete magari una live o volete il proseguire della serie anche se in realtà da quanto io ho capito negli ultimi anni le serie non sono proprio parezzatissime allora aspettiamo che arrivi qualcuno perché poi si può piantare ma non non so dove non so come soprattutto vorrei andare là al negozio adesso magari nel profitto stanno arrivando degli avventurieri ma voglio vedere se mi vende un piccone glielo pago stavolta perché col piccone magari mi vado a fare miniera cercherò la miniera e mi andrò a fare un po' di un po' di metallo e risparmiando un po' perché se devo comprare il metallo o me lo crafto da solo un piccone però non lo so fare il piccone quindi allora qua solo manici lì ma per le lance questa è una lancia epica costa un botto non so quanto costi dire la verità vabbè niente non intanto abbiamo un cliente in negozio quindi andiamo a vedere ma sicuramente mi chiederà un ascia o un martello e non la so per fare quindi adesso ci mettiamo lì e craftiamo la nostra prima arma poi magari riusciamo a magari venderla allora buondi one hand pickaxe non lo so fare non lo so fare allora praticamente adesso noi prendiamo in mano il la abbiamo la lama che è lì è brutta però vabbè prendo questo prendo il tasto cos'è che era allora il tasto E mi diventa fantasma vedete adesso premo il tasto E su questo mi diventa un fantasma posso unirla a questo premo E e poi riesco a unirla alla guardia sì ma la guardia è piccola però ok no non si può ok E guardia guardia sì ma è giusto scusami questo dice che è valido solo per le armi a una mano eh sì quindi io prendo la lama che è qui tengo premuto il tasto E lo fisso qui non me lo fa fissare ah perché è un pugnalino del cavolo questo mi sa mi sa che è solo pronta così questa non non serve altro salve two hand axe non la so fare allora abbiamo questa dagger di qualità 13 quindi non non è niente non so cosa posso farne io con questa se posso venderla onestamente eh ok la metto qui cargo unlocked cos'è questo vuoi vedere che qua posso trasportare della merce scusi eh adesso prendo questo glielo appoggio qui scusi non la imboschi dietro ok olla peppa no 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 mi scusi mi scusi volevo no ah è mio quindi non penso che come il carretto di del conto e dracula si muova da solo ma in realtà abbiamo incontrato il primo bug anche perché non ho perso la spada chissà dove è partita la mia bellissima spada vabbè eh niente chissà dov'è chissà dov'è chissà dov'è chissà dov'è finita vabbè allora sta calando nuovamente la nebbia abbiamo un altro cliente two hand axe non le so fare perché qualcuno magari ne sa più di me e c'è giocato e sa come funziona me lo consigli perché me lo dica perché two hand ah two hand blade ma il fatto è che non so fare non so fare eh queste cose quindi io adesso provo magari sono un babbano io mi servono due lingotti non lo so proviamo adesso scaldiamo bene il copper lo lasciamo scaldare un po' e vediamo e vediamo se è pronto ok uno un po' già lì ok vediamo se con due riusciamo magari non so ok x ah ok 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 single axe basic axe european war axe single ok dai facciamo la testa della di questo dai martella ok abbiamo capito una cosa nuova lo stiamo esplorando insieme il gioco quindi non è che poi qui ci sia da spiegare anche se non farvi vedere come funziona il gioco ok mi piace molto bella bella bellissima mi piace ho giudicato ok ora ora copper ce l'ho allora ce l'ho eccola ecco lei signorina ecco ce l'abbiamo fatta ok abbiamo capito che mettendo più pezzi possiamo fare molti più lavori tra l'altro qua c'è anche questa cosa qui che non so come funziona possiamo affilare le varie cose non gliel'avevo affilata ma voglio vedere se effettivamente funziona tra l'altro io ho messo anche il legname qua ma ok adesso dovrebbe andare o non so se non è stato ancora implementata come taglio di legna questa cosa ma non so vabbè comunque facciamo la prova voglio provare a fare una lama e affilarla quindi uno mi sta intrippando parecchio scusi lei non ci vuole nessuno ok dai vai col mantice qua come si chiama ok quando è bello caldo che non si capisce quando ma riscaldato 2 riscaldato 2 ok si lo poggiamo lì e poi lo poggiamo lì ok poi z axis single axe vai voglio fare il piccone vediamo miscellaneos possiamo fare metal plate armor blunts eh si si è sbloccato praticamente tutto si dai va bene questo martella un po facciamo una una vediamo cosa mi fa ancora così ah la testa del piccone ok niente no dai facciamola così raffredda recupera voglio vedere se me la lascia affilare adesso sulla mola vediamo se funziona ok ah me l'ha fissata ma si ma che spettacolo qualità uh l'ho portato sul rosso non va portato sul rosso se no ne cala la qualità allora vedete che qua continuiamo ok qualità 10 integrità 82 l'abbiamo un po' danneggiata a dire la verità però credo che così sia pronta qualità più alta di quella di prima ovviamente adesso non ho visto quanto ci ha pagato perché avevamo speso un po' però lo possiamo vedere subito one hand axe si certo io la faccio subito le faccio anche il manico di metallo magari se riusciamo a usarlo con l'ascia si no non me la fa ok allora noi abbiamo 75 copper adesso ci ha pagato abbastanza vediamo lei vuole questa eccola lì grazie 75 123 direi che siamo abbastanza messi bene infatti possiamo vedere che abbiamo 41 48 grey still plays youtuber cioè praticamente allora il gioco avrà il multiplayer avrà il cooperativo ma non adesso quindi o è finta come cosa o sono altri giocatori che ci giocano e e c'è il nome insomma dei giocatori allora è intrigantissimo calcolando che non mi sono mosso da qui sono stato giusto arrestato per farvi divertire ma dobbiamo ancora approfondire praticamente tutto di questo titolo però vi voglio lasciare un pochino così col dubbio con la l'acquolina fatemi sapere che cosa ne pensate di questo my little blacksmith shop che poi rinominerò in indie indismith shop fatemi sapere e alla prossima ciao 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 Autore dei sovrapposti